L'occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico viene presentata una nuova iniziativa ovvero Travel Game, un nuovo gioco, una nuova iniziativa che coinvolgerà le scuole calabresi. Certamente, l'associazione culturale della Movida ogni anno organizza tantissimi eventi dedicati alle scuole, nello specifico grandissimo successo per Travel Game, un progetto multimediale interattivo che coinvolge tantissime scuole da ogni parte d'Italia. Nello specifico, solo l'anno scorso Travel Game ha coinvolto oltre 1.400 studenti provenienti da tutta la Calabria per un totale di 28 istituti che hanno avuto modo così di potersi sfidare a un grande gioco a quiz. Sì, 1.400 studenti provenienti da tutta la Calabria per un totale di 28 istituti. Travel Game è un progetto che ha riscosso tantissimo successo e offre la possibilità di socializzazione e coinvolgimento da parte dei ragazzi, perché grazie alla tecnologia RS Power hanno modo di sfidarsi in maniera sana ai quiz multimediali interattivi che vengono proposti. I quiz stessi sono caricati direttamente dagli insegnanti. Ovviamente i quiz sono inerenti al piano di studi dell'anno scolastico e quindi i ragazzi avranno modo non solo di sfidarsi istituto contro istituto sul piano di studi, ma anche cercare di capire cosa il viaggio di istruzione ha lasciato nella loro mente, in quanto le ultime domande del viaggio di ritorno saranno in relazione ai posti che hanno visitato. È un nuovo modo di imparare divertendosi, un nuovo modo di interfacciarsi alla tecnologia, un nuovo modo per coinvolgere tutti in maniera sana, divertente, coinvolgendo la mente, la fantasia e stimolando l'ingegno. Benissimo, quindi un gioco, una competizione, ma ovviamente con un obiettivo culturale. Sì, l'obiettivo culturale è quello di spingere i ragazzi alla conoscenza del territorio. Tante sono state le mete gettonate in questo periodo, tra cui Travel Game ha organizzato la Puglia, l'Emilia Romagna, tantissime mete all'estero e soprattutto la nostra ricchissima e amatissima Sila, una grande risorsa del territorio calabrese. Benissimo, allora quando si parte? Si parte già dal periodo di marzo, ci saranno le prime partenze per poi proseguire fino a luglio.